Pregno di significati, il 25 aprile, celebrato con la cerimonia istituzionale civile, per ricordare il 77esimo anniversario della festa della liberazione, quella religiosa, con il pontificale in Duomo per onorare il santo patrono di Pordenone, e la sociale, con il conferimento dei premi San Marco alle persone che si sono particolarmente distinte nella propria professione e che hanno dato lustro alla città e al territorio. Il senso della cerimonia di oggi è stato sicuramente quello di ricordare i tanti giovani, partigiani, americani, inglesi, che hanno combattuto per istituire la libertà al nostro paese e all'Europa. Ma il messaggio più importante è quello di attualizzare il senso della libertà, soprattutto oggi, in cui nel mondo ancora eccheggiano i rumori di carri armati, di bombe, di guerre. In alcuni paesi la libertà, la giustizia e i detti civili sono ancora una fragile speranza. Quindi non basta più chiudersi nel perimetro dell'antifascismo, bisogna invece professarsi antitotalitaristi e combattere con tutte le nostre forze, facendo appello ai valori occidentali sorti nel 1945 e poi coltivati nelle nostre strutture politiche affinché la pace, i diritti, la giustizia siano un patrimonio comune anche laddove ancora oggi non lo sono. Dopo la Santa Messa in Duomo, la giornata di festa è proseguita in Sala Consiliare per la consegna dei premi San Marco su iniziativa della Propordenone retta dal Presidente Giuseppe Pedicini. Quest'anno i riconoscimenti sono stati attribuiti alla memoria di Renato Battiston, Presidente dell'Associazione Amici del Cuore, Ermene Gildo Fanzago, storico ristoratore e ad Eugenio Sartori, imprenditore agricolo.